Fabio Ciconte, esperto di agricoltura e filiere alimentari. Torna a trovarci Fabio, buongiorno. Ciao Fabio. Fabio, abbiamo sentito parlare delle proteste degli agricoltori, i trattori che bloccano le autostrade, ma esattamente quali sono le loro richieste? Perché stanno scioperando? Le richieste sono tante, intanto perché è un movimento molto eterogeneo che si è sviluppato in tutta Europa, ma con richieste molto diverse fra di loro, perché ricordiamo questo movimento che nasce in Germania nei primi giorni di dicembre, perché gli agricoltori si sono arrabbiati? Perché il governo federale gli ha tolto una serie di incentivi, per esempio al gasolio, il gasolio serve per fare andare i trattori, oppure non ha incentivato l'acquisto di nuove macchine agricole. Ora, gli incentivi per gli agricoltori sono una fonte di reddito in qualche modo molto importante. Quando a un certo punto, da più parte d'Europa, questa cosa è venuta meno, sono iniziate le proteste, ma ci sono anche altri motivi, per esempio nella parte est dell'Europa, gli agricoltori, soprattutto dalla parte della Romania o della Polonia, erano molto arrabbiati, sono molto arrabbiati, perché il grano proveniente dall'Ucraina viene importato a un prezzo molto basso e quindi va in competizione con i loro cereali. In Italia la situazione è stata un po' diversa, e nasce da quando il governo ha deciso di reinserire il pagamento dell'IRPEF, quindi di reinserire una tassa per gli agricoltori, di togliere, di reinserire le tasse per i giovani agricoltori, e quindi tutto questo ha fatto montare una protesta molto variegata. Quello che è certo è che gli agricoltori sono molto affaticati, questo in tutte le parti d'Europa, perché produrre, fare agricoltura è molto difficile, è molto faticoso, e per gli agricoltori spesso non viene riconosciuto il giusto prezzo del cibo che loro producono. E quindi questo aumenta la fatica di chi sta poi nei campi e coltiva la terra. Cioè se io coltivo una mela e mi costa 10 centesimi, poi quella mela la riesco a vendere a 9 centesimi, tutta la fatica che io faccio non viene riconosciuta da un mercato. E' un mercato che oggettivamente paga molto poco il prezzo del prodotto. Diciamo, se noi invertissimo questa tendenza, forse queste proteste non ci sarebbero. Il problema appunto, il mercato è anche una delle parole chiave in questo, a partire dalle multinazionali per arrivare poi alla grande distribuzione. Tutte cose che incidono naturalmente sul prodotto, sulla vendita del prodotto e la qualità. Beh sì, perché in questa filiera alimentare, cioè dal campo allo scaffale, l'ultimo anello è l'agricoltore e poi il lavoratore agricolo. La grande distribuzione, una delle cose che noi spesso abbiamo criticato in questi anni, è quella di aver schiacciato troppo i prezzi per poi vendere a scaffale a un prezzo molto basso. Ma perché questo succede? Perché poi la nostra capacità di acquisto di noi cittadini è molto bassa, quindi il supermercato tende a ribassare i prezzi, ma questo si ripercuote nella vita reale di chi produce, che guadagna sempre troppo poco. Allora lì bisogna intervenire con delle leggi, con delle norme, che impediscano all'agricoltore di vendere, anzi, che impediscono al mondo della distribuzione di acquistare sotto costo, cioè sotto il costo di produzione. Esiste già una norma europea importante da questo punto di vista, bisogna capire se questa norma europea, che è quella delle pratiche staleali, sta effettivamente rendendo possibile di non acquistare sotto costo. Al momento le informazioni che noi abbiamo ci dicono invece che molti produttori ancora sono costretti a vendere sotto il costo di produzione e questo genera tutto questo problema. E allora adesso vogliamo andare nella Tuscia, esattamente a Marta, vogliamo conoscere una coppia di agricoltori e ascolteremo la storia di una giovane contadina e un esempio di coltivazione sostenibile. Grazie al nostro Giuseppe Chiantera. Guardiamo il servizio. Io e il mio compagno ci siamo trasferiti da Roma nel 2018, lasciando i nostri rispettivi lavori, ci occupavamo di tutt'altro e abbiamo avviato l'azienda agricola nel 2019. Noi coltiviamo poco più di 5 ettari, in cui abbiamo un oliveto, delle piante aromatiche officinali e piccoli frutti, mori, mirtiglie e lamponi e un piccolo frutteto. Da queste coltivazioni, che sono tutte ovviamente certificate biologiche, noi otteniamo olio extravergine di oliva, ovviamente, composte di frutta, erbe essiccate ad uso condimentario, oli essenziali, saponi, una piccola parte cosmetica. Cerchiamo di avere dei prodotti artigianali particolari che non si possono trovare chiaramente nello scaffale della grande distribuzione. Noi qui ci troviamo appunto nella Tuscia, ci sono una serie di aziende agricole piccoline, come la nostra, che cercano di coltivare in maniera biologica, sostenibile, seguendo principi di agroecologia, cercando di ricavarsi nicchie di mercato attente a questo tipo di prodotti e attente anche a valorizzare la nostra figura come custodi di questo territorio, quindi che non impattano negativamente sull'ambiente, ma anche sulla salute. Non è detto che un prodotto, solo perché sia made in Italy, è necessariamente frutto di una coltivazione attenta di quel territorio e sostenibile per quell'ambiente e non impattante su quell'ambiente. La difficoltà maggiore che c'è è proprio quella di commercializzare questi prodotti e di far capire che la differenza di prezzo deriva ovviamente da lavorazioni manuali, quindi bassa meccanizzazione, remunerazione dei fattori della produzione in maniera equa e coerente, perché chiaramente non vogliamo sfruttare mano d'opera a basso costo e di conseguenza questo incide poi sul prezzo finale anche di vendita. Ci rivolgiamo a mercati, filiere corte, a un contatto quanto più possibile di prossimità con i nostri clienti per spiegare anche il valore aggiunto che c'è nei nostri prodotti. Non siamo solo un'etichetta su uno scaffale, ma le persone capiscono che dietro c'è un impegno, c'è un lavoro, c'è un rispetto dell'ambiente, ci sono dei valori, dei valori che passano poi attraverso i nostri prodotti. Fabio, tu conosci molto bene il lavoro che fa Stella e i valori di cui ci ha parlato. La storia di Stella e del suo compagno Lorenzo è una storia importante perché ci racconta intanto una scelta di vita a servizio della produzione agricola e dell'ambiente, che sono due elementi che sono in comunione in qualche modo, che stanno insieme. E il racconto che si fa in queste settimane, cioè che le misure ambientali in qualche modo contrastano la produzione agricola, invece sono proprio l'esatto contrario di quello che ci sta raccontando Stella. La storia di Stella ci dice invece che esistono migliaia e migliaia di agricoltori, di donne, di uomini che ogni giorno riescono a fare produzione agricola salvaguardando l'ambiente, cioè che l'ambiente serve a fare un'agricoltura migliore di quella che noi attualmente abbiamo. Il racconto di queste settimane invece vuole dirci il contrario e ce lo vuole dire per una ragione, ce lo vuole dire per in qualche modo per ostacolare le misure del Green Deal europeo, cioè della transizione ecologica che è necessaria per salvare noi stessi prima ancora che il pianeta da questa crisi climatica che incombe sulle nostre vite. Anche l'agricoltura ha bisogno di una trasformazione, cioè ha bisogno di essere, di migliorare e di essere più sostenibile. In questo momento si sta dicendo invece che queste misure ecologiche dell'agricoltura incidono negativamente sulla produzione. Questo secondo me è un peccato perché va bene sostenere le rivendicazioni degli agricoltori se però queste non decadono in una battaglia rispetto alle questioni ambientali. Le questioni ambientali invece sono importanti perché la salvaguarda dei suoli, l'uso della chimica in agricoltura, quindi anche quello che noi mangiamo, sono elementi importanti che hanno a che fare con il bene primario che è il cibo e con la dignità degli agricoltori. E quindi ricordiamo tutti quanti, anche noi consumatori, l'importanza di queste cose e la storia di Stelle Lorenzo non è una storia da 10 agosto, da stelle cadenti, da desideri realizzabili, ma esiste veramente. Quindi teniamolo sempre a mente anche noi. Grazie Fabio Ciconte per essere stato con noi. Grazie a voi. Torna presto, andiamo in pubblicità, ritorniamo fra poco con un prodotto che si sta lavorando dall'altra parte dello studio ed è il rotolo della Vale. A fra poco. E siamo ancora in compagnia di Fabio Ciconte, scrittore, esperto di agricoltura e di filiere alimentari. Stiamo raccontando le proteste, le proteste che sono arrivate anche in Italia degli agricoltori e ci eravamo lasciati sul Green Deal. Vogliamo spiegare bene di cosa si tratta? Allora, diciamo che siamo dentro una enorme crisi climatica dovuta all'aumento delle temperature, dovuto all'aumento della CO2 in atmosfera. L'Europa dice giustamente dobbiamo fare qualcosa, quindi ridurre le emissioni e per farlo bisogna mettere in campo una serie di politiche in tutti i settori produttivi e l'hanno fatto attraverso questa che si chiama il Green Deal, il patto verde e chiaramente riguarda anche il settore primario, cioè l'agricoltura e attraverso una strategia specifica chiamata la Farm to Fork dal campo allo scaffale si è detto facciamo una serie di cose graduali nel tempo che migliorino la produzione agricola. Per esempio aumentiamo la superficie di agricoltura biologica rispetto a quella che c'è adesso, aumentiamo per esempio la biodiversità, altro aspetto fondamentale per le nostre vite e per l'ambiente oppure riduciamo il numero dei pesticidi oppure altra misura su cui si sta discutendo tantissimo in queste settimane è teniamo al riposo una percentuale piccola di terreni, parliamo del 4%, in modo tale che ci possa passare sopra un'ape, un uccello, si possa ristabilire quel minimo di biodiversità che è tanto utile ai nostri campi. Tutte queste episodi in qualche modo in questo momento sono un po' invise al mondo agricolo ma non perché il mondo agricolo ce l'ha contro l'ambiente perché il problema è che avendo un problema di reddito se la prende con tutto ciò che pensa possa diminuire il reddito. Allora la battaglia non è contro l'ambiente. La battaglia, la fatica che bisogna fare è riconoscere il giusto prezzo al valore del cibo quindi retribuire equamente il valore del cibo quindi non è togliendo le misure ambientali come si sta dicendo in queste settimane che si risolve il problema ma è restituendo il valore del cibo e io sono convinto del fatto che il Green Deal invece le misure ecologiche possano aiutare a rafforzare ancora di più la produzione aumentare la qualità dei prodotti se a questo si accompagna anche la possibilità di chi poi va a fare la spesa cioè di tutti noi di poter spendere il giusto prezzo quando si compra qualcosa perché poi bisogna sempre tenere in equilibrio le possibilità individuali di ognuno di noi la dignità della produzione agricola e l'ambiente diciamo l'equilibrio tra queste misure è l'aspetto centrale su cui dobbiamo puntare senza invece puntare il dito contro il Green Deal che è invece un aspetto fondamentale Fabio io ti ringrazio nuovamente per essere stato con noi torna presto a trovarci Fabio Ciconte scrittore esperto di agricoltura e filiere alimentari perché sono gli scorsi che ci riguardano e continueranno a riguardarci grazie Fabio grazie grazie Fabio grazie a te grazie